Un'assemblea unitaria di tutti i lavoratori del porto di Cagliari per analizzare la crisi dello scalo dopo l'annuncio della ITARC di procedere nei prossimi giorni ai primi 40 licenziamenti se non si avranno notizie positive dalla CICT, la Cagliari International Container Terminal in merito al futuro dei traffici nel porto industriale di Cagliari. I licenziamenti sono stati annunciati ieri nel corso di un incontro tra i sindacati e il responsabile della dita d'appalto che ha quantificato il numero degli esuberi tra 40 e 63 ma ha rimandato la decisione definitiva la settimana prossima. Siamo preoccupati per il futuro complessivo del porto industriale di tutti i lavoratori, diretti e degli appalti ha sottolineato la segretaria della Filti CGL di Cagliari, Massimiliana Tocco che denuncia il fatto che davanti alla crisi ormai palese dei dati del traffico ridotto all'80% la CICT e il gruppo Conship Italia restano in silenzio. Il sindacato ha consegnato ai colleghi che siedono nel consiglio di amministrazione del gruppo tedesco Eurocai al quale fa capo la Cont Ship una relazione sul porto industriale di Cagliari. Ci sono fatti carico di portare all'attenzione dei vertici del gruppo alla nostra situazione, ha rilevato la segretaria Tocco. Aspettiamo risposte in settimana ma nel frattempo, considerate le incertezze determinate dall'assenza di interlocuzioni col gruppo in Italia, abbiamo solicitato un nuovo incontro col ministro dei trasporti Danilo Toninelli al quale chiediamo di convocare la Cont Ship affinché chiarisca quali progetti ha sul nostro porto e insieme a questo di aprire un tavolo per valutare le altre opzioni sul campo. Il sindacato ha lanciato un appello alla politica sarda perché non resta a guardare mentre rischiano di sfumare da una parte circa 700 buste a paga tra diretti e indiretti e indotto, dall'altra le potenzialità di sviluppo che la presenza del porto industriale può garantire alla città metropolitana e all'intero territorio sardo.